deve dare un grande contributo all'arte scultoria diciamo in particolar modo quella che riguarda i busti pensa quanto lavoro ha dato alle persone che fanno i busti prima che c'è i busti a casa noi ce ne abbiamo tutti ciao a tutte, ciao a tutti benvenuti a una puntata speciale di Tintoria applauso e vai alla mia destra alla co-conduzione nel ruolo di bel ragazzo del podcasting italiano Stefano Rapone ciao sono io ci troviamo Tinti grazie location diversa puntata speciale ci troviamo al Comedy Village by the Comedy Club with Comedy Central le tre C della comicità comedy, comedy, comedy perché siamo banali dietro c'è una bellissima piscina dove la gente vorrebbe stare a mollo ma non può perché sennò entra nelle inquadrature e quindi stiamo pure togliendo un pomeriggio di sola a queste persone puntata speciale di Tintoria che sarà un po' la puntata zero della nuova stagione quindi se va male non salta il podcast questo lo diciamo come stai? bene un po' stanco come sempre tu stai bene io sto abbastanza bene grazie che hai fatto quest'estate? sono in vacanza ah sono stato in Indonesia come si può vedere dal mio outfit giovanile è un cambio d'outfit importante per te sì vabbè estate comunque ci sta che mi vesta in maniera sì no l'estate tu non ti sei mai vestito così l'estate no no però sei tornato all'Indonesia e hai cambiato l'Indonesia mi ha cambiato in meglio in meglio sono più finalmente le camicie che ti meriti sì sì va bene prossimo sponsor di Tintoria camicie a chilometro zero fatte in Indonesia quindi se le comprate in Italia è tantissimi chilometri esatto fatte da bambini quasi adolescenti vabbè quindi tutto sommato in età da lavoro eh sì dai comunque quando quando in Italia un giovane adolescente si dà da fare noi pensiamo guarda che bravo invece se lo fa in Indonesia diciamo quello è sfruttamento minorile però questo è il nostro pensiero colonialista quei bambini vogliono lavorare esatto è comunque esperienza eh cioè esatto poi perché così che si fa quando le aziende dicono cerchiamo neolaureato con dieci anni di esperienza se siete indonesiani avete dieci anni di esperienza e a ventun anni conseguite la laurea e siete pronti dici guarda io lavoro da quando ne ho undici quindi sono pronto a entrare in H&M che tanto è il mio sponsor effettivo di magliette felpe che ora non indosso però però normalmente ah sì tu sei H&M non sei OBS no no H&M perché ne parlano mai perché questi fanno queste cose fanno fast fashion però io ne compro una e la uso per dieci anni quindi alla fine questo è una divisione secondo me tra comici che si può fare H&M o OBS perché comunque questi sono i due brand che ci possiamo permettere quindi se vedi quindi se vedi è tutto così io devo dire ultimamente sono tornato a Fruit of the Loom con prepotenza però c'è un materiale che sembra di cosa sembra? di carta sembra una maglietta maglietta se vuoi le felpe no per esempio però magari vogliono farci da sponsor quindi dobbiamo parlare bene no infatti parlane bene Fruit of the Loom sembra oro cosa sembra? sembra sembra quasi fatto da un indonesiano di già 18 anni esatto adulto prossimo alla pensione sì 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 ad occhia quota 100 un indonesiano di 18 anni ci siamo quasi ci siamo quasi senti l'indonesia la consiglieresti? bella molto bella andateci tanto costa costa un po' il viaggio però costa poco costa poco potete se vi siete permessi questo comedy village la potete fare i pascha diciamo diciamo quattro mesi in indonesia sono come il weekend al comedy village esatto e senza sparacino quindi quindi meglio meglio un applauso un applauso a Pietro Sparacino direttore artistico del comedy village che poi chiameremo sul palco sì e tu? allora io sono stato ho fatto un piccolo giro dei Balcani in macchina e andate andate se potete a vedere Sarajevo città speciale cioè non so se ci sei l'unico posto del viaggio ho detto proprio ah questo è un posto diverso da tutti gli altri e cioè vedi proprio la storia di due culture e due religioni che convivono nella stessa città è bellissima fa anche paura perché tre quarti palazzi hanno effettivamente i buchi dei proiettili sulle facciate fa impressione però è l'unica città diciamo in Europa che dici ah questo è diverso da tutto il resto e quindi se potrei andare a Sarajevo andate a Sarajevo che è speciale non andate in Croazia per nessun motivo questo lo dico perché allora se dovete andare in Croazia allora andate a Rimini non c'è nessun problema costa di meno cioè proprio è una macchina di turismo che mi ha mi sono scottato molto in Croazia a Spalato questo non lo voglio dire vabbè insomma abbiamo cenato ci hanno fatto pagare sempre un sacco di soldi abbiamo mangiato malissimo una sera a Spalato Spalato sarebbe molto bella però è più turistica del centro di Firenze cioè è una merda e non puoi pagare con la carta anche se gli dici guarda è obbligatorio loro ci hanno letteralmente detto no lo sappiamo però it's better for us if you don't use cards la vedi tutto il mondo è paese e in un ristorante abbiamo preso dice la specialità non vogliamo mangiare male qual è la vostra specialità e quello fa noi facciamo lo squalo ho detto vabbè è un po' cioè mi stavo facendo dei problemi cioè mangiare lo squalo dico però stiamo qua mangiamo lo squalo mangerò bene e mi hanno portato dei tranci di merluzzo surgelati non cotti bene con una salsa di tartufo sopra e poi la crema di aceto balsamico della Conad e che se te la servono in Italia prendi a schiaffi il cameriere e invece là 25 euro dice questo è lo squalo quindi non andate in Croazia lo squalo c'è in Croazia non era squalo cioè c'era solo scritto squalo però dicevo guarda questo lo vendono al supermercato non è squalo quindi questa è la mia campagna contro la Croazia sì vabbè squali questo è il mio contributo al podcast squali questa è la nuova nella nuova stagione tu devi solo squali io ripeto e poi devo completare le frasi io ripeto l'ultima parola e poi e poi io devo andare avanti e poi vediamo che succede squali di strada quattro pinne all'orizzonte c'era anche la la barzelletta dice guarda gli squali e dice squali e poi dice squelli bella livello medio alto sì però non l'ho scritta io questa non l'hai scritta io questa di Woody Allen mi sa sì sì questa la faceva George Carlin senti scusa fa la mosca non può fa questa George Carlin scusa fa quella della mosca che scoreggiava dritta ma non era di Luttazzi oh sai effettivamente la mosca era di Luttazzi lui diceva la falena invece Luttazzi era una rivisitazione la mosca perché c'è la c dura che fa ridere è vero quindi tutto sommato attenzione ha ragione Luttazzi lui non copiava lui omaggiava e migliorava sì quindi diciamo anche Luttazzi prossimo ospite del podcast magari quando vuoi sei padrone di casa Daniele Luttazzi magari esatto che tra l'altro era uno dei docenti vabbè adesso non cominciamo tutti le cose sai qual è il vero nome di Daniele Luttazzi sì Baudo Pippo no questa è già doppia vabbè sta iniziando bene questa stagione senti ho paura di una cosa tra l'altro questo lo confesso mi sa che mi devo mettere gli occhiali brutto adesso no devo vedere qualcuno che mi dirà se devo mettere gli occhiali perché c'ho avuto un paio di momenti mentre guidavo nei Balcani che dicevo oh cioè mi gira la testa che non è una bella sensazione avere in un tunnel bosniaco con i camion che vengono qua e fare tipo oh 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 e quando guardo le cose con i sottotitoli mi confondo quindi o sto a diventare stupido finalmente oppure oppure c'è bisogno di degli occhiali occhiali ma sai che potresti miope non capito io sono talmente arrogante che mangio talmente tante carote che manco so che è miope tipo leggi da lì la scritta Andrea attenzione questa è una vetrata sì beh quella però se legge finale veramente allora non mi servo tutto sfocato veramente è così non vedere io cioè nel senso non vuoi fare bull eye shaming però c'è un grosso cartello in stampatello eh ah vabbè no allora non sono non sono mio quando fai cioè non è che un oculista quando fai le cose ma come non lo legge è grosso guarda cioè sarebbe bello per motivarti tu fai e e lui fa sì vabbè siamo partiti malissimo vatti a fare una passeggiata poi torni quando sei più tranquillo è un problema medico quindi sì forse mi devo mettere gli occhiali ah sai perché sai come ho scoperto mi devo mettere mi sto vedendo sta serie con i sottotitoli in inglese che si chiama The Americans aspetta ti posso chiedere che occhiali che montatura ti metteresti ti posso dire tonda classi quelli che c'erano i nostri compagni alle elementari quelli proprio i compagni cioè quelli da Gramsci sì esatto eh bravo no però quelli c'è gli occhiali quelli che per me gli occhiali fammi vedere no adesso c'è nessuno gli occhiali eh guarda guarda eccoli là ho degli occhiali quelli anche sì quelli là secondo me mi starebbero bene no non mi ci vedi che occhiali mi tipo tipo guglia di Doraemon gli occhiali tondi eh bravissimo ok bravissimo Milaos Milaos però Milaos c'ha la montatura grossa no sì tondi però tondi però con la montatura quella fina mi ci vedo bene sì secondo me sì vorrebbe essere una soluzione anche come spunto comico dico c'ho gli occhiali e poi si scrive da solo certo non ve lo sto a fare qua ma ho messo peato te che hai problemi sai quanto materiale questo che ti vuole metto gli occhiali è come fare i figli è proprio la svolta e la carriera tac e mo arrivo colorato so ciecato e faccio il ciecato pelato e divento presidente della repubblica in dieci anni con i monologhi così e insomma mi sto a vedere The Americans che è una serie vecchia ma tipo ti interessi non lo voglio solo interrompere vai ste questo è Stefano o tace oppure mi fa da antagonista cioè vado in direzione lui fa no 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 ti metteresti le lenti a contatto allora grazie della domanda io tutte le volte vedo qualcuno che si infile le lenti a contatto penso che sia un abominio cioè che ti stai ficcando dei pezzi di vetro negli occhi e tutti dicono ma non è vetro però sono lenti quindi è vetro fate cacare cioè è tutto normale e quindi sì le metterei io pensavo fosse una cosa che dice beh che ci vuole le metti una volta ho provato a metterle mi sono diventato gli occhi ero perché mi hanno portato dietro dal sono andato all'opulista ho detto vieni con me mi ha portato cioè dall'ottico mi ha portato in uno studio che tipo mi ha fatto come da sensei e mi ha detto adesso guarda si fa così la prendi la metteva poi la togli e poi la togli provo a metterla non ci riuscivo mai perché mi toccavo l'op cioè se io faccio mi avvicino il dito faccio tipo giusto così quindi perché il mio il mio corpo dice non è naturale e non è naturale il dito nell'occhio e quindi diventa tutto rosso e poi una volta l'ho messa però era tutta storta e quindi non riuscivo più a togliere lui ha fatto proprio la mossa da sensei ha fatto di pochi ah bellissimo mi ha tolta però siccome non ci vedevo bene ne ho ordinate delle altre però ero talmente traumatizzato che non le sono mai andate a prendere ah neanche a prendere cioè nel senso sono rimasto lì sono rimasto in deposito ho rinunciato a a mettermi le lenti per non soffrire no ci sta però perché tu non fai sport con la palla mentre invece per quelli è necessario cioè se giochi a calcetto non è che puoi giocare con gli occhiali boh ti arriva una pallonata sugli occhiali si rompono gli occhiali ti sgarri tutto invece con le lenti invece c'è una categoria che tu non conosci sono quelli che non ci vedono che vengono a giocare a calcetto si tolgono gli occhiali non mettono le lenti e quindi tu li vedi che stanno un po' così e finché il pallone non gli entra a 5 metri loro capito giocano tipo in una capsula fuori da quello è tutto invisibile quindi quando passa il pallone eccolo è sparito è solo quello in quei 5 metri intorno però siamo amici quindi si può fare anche quello bene e insomma mi sto vedendo questa serie che si chiama The Americans che è una vecchia serie non so se qualcuno l'ha vista che sta su Disney Plus come dico io perché siamo in Italia e noi in America quindi Disney Plus perché siamo in Italia nel 2022 e non molti più anni prima che è bella che sono ste spie del KGB undercover in America negli anni 70 e quindi sono tipo questa coppia che hanno dei figli che non sanno che i genitori sono spie del KGB infiltrate e loro devono trovare tutti molto carina sono alla seconda stagione vuoi sapere come si fa la spia del KGB in America negli anni 70? ti prego dimmelo ti devi scopare tutti tutti quanti la serie è così cominciano loro boh boh dimmi tutto ti dico tutto e avanti così due stagioni bellissimo qualità altissima la consiglio a tutti quelli che vogliono vedere un soft porno internazionale con delle punte di spionaggio però molto bello tu ti stai a vedere qualcosa? stai vedendo Cobra Kai ah che è arrivato tipo alla quinta stagione alla quinta stagione vedi comincia che è una telenovela poi dopo c'è la quinta stagione poi diventa ma proprio volutamente cioè inizia con un form no però amicizie cose un po' di nodi da sciogliere così e poi invece se meno no tra l'altro è cascato uno dei lasciamola uno dei protagonisti di Cobra Kai anzi uno dei protagonisti di Karate Kid che non so se è anche in Cobra Kai era uno degli MC certo è Ralph Maccio dove sta dove sta Ralph Maccio comunale e che è di Vincenzo comunale non c'è non c'è vedi sta allenandosi con il maestro Miaghi con il maestro Miaghi che è Fratini che è Fratini certo esatto esattamente e senti puntata speciale anche perché di solito c'è l'ospite vedete la sedia normalmente c'è un ospite simbolicamente vuota diciamo per ricordare perché l'ospite che avevamo scelto per questa puntata speciale era chiaramente Paolo Rossi Paolo Rossi che doveva esibirsi al Comedy Village però non è venuto perché non è più tra noi ci ha lasciati non so se avete saputo che poi è qua è una bolla però Paolo Rossi non c'è più questo possiamo tranquilli dirlo perché non pubblichiamo questa puntata fino al giorno in cui muore speriamo il più tardi possibile fosse pure Halloween a noi va benissimo aspettiamo che tra l'altro è il mio compleanno quindi sarebbe anche un bel regalo unire le due cose salutiamo Paolo Rossi qual è il twist che lui ha veramente il Covid se gli succede qualcosa tutta la puntata salta che noi Paolo Rossi è morto domani apre il cellulare no no dobbiamo tagliare 5 minuti di puntata questo è il lutto quelli più divertenti ogni 5 hanno riso sinceramente quindi sarebbe quindi non essendoci Paolo Rossi come ripiego come ripiego abbiamo pensato a un altro comico diciamo di fascia un po' più bassa però comunque non per questo meno meno simpatico meno simpatico meno interessante sì anzi lo vogliamo già chiamare ma chiamiamolo chiamiamolo signore e signori chiamiamo sul palco il direttore artistico del Comedy Village Pietro Sparacino ciao cialtroni ciao Pietro ciao come stai? bene devastato con le corde vocali finite ma contento di aver rispettato la promessa fatta all'ultima ospitata a Tintoria cioè di portarmi al Comedy Village quindi come vedi sono un uomo di parola sei al Comedy Village te ne sei pentito? no no sono molto contento ma manca ancora l'ultima serata quindi potresti avere tempo io vi chiedo di non parlare di serie tv perché l'ultima volta sono venuto ospite a Tintoria è uscito fuori che stavo guardando manifest sì quello sul volo era quello e ho avuto un mese e mezzo terribile di messaggi che mi diceva era una serie di merda non la dovevo vedere perché ne hai parlato e noi abbiamo detto è una serie di merda non la vedete cazzo e invece hanno cominciato a vederla sono ospite per la quarta volta per la quarta volta infatti non ti faremo domande perché basta nel senso no è un traguardo importante perché dopo quattro puntate a Tintoria si vince la partecipazione a Kashmir che è l'unico podcast è vero è vero guarda te piacerebbe te ne servono 38 il cambio è totalmente sballato te lo dico pensa noi ci abbiamo messo cento e passa puntate più di cento puntate per fare Kashmir quindi vedi tu pensavo che dopo quattro bollini no 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 fosse automatico il passaggio guarda io ho fatto pure tipo 28 puntate di un podcast con Luca e comunque mi piace che tu cerchi subito la mente anche di cercare gli sponsor metto la Coca Cola qua magari magari due lire me le danno Coca Cola Company poi Coca Cola Germania con la bandiera della Germania quindi magari la Germania due soldi li manda da questa parte noi comunque sempre amici della Germania io Stefano questo è un podcast amico della Germania che è oltretutto la Coppa del Mondo pensa che è rosicata è vero sulla Coppa del Mondo però comunque sia sulla Germania ci sta perché c'è un bel rapporto ecco non bisogna nominare la Germania Paolo Ross è diventata è diventata una saluta spiritica se ci sei attimo è visto che a metà l'ha battuto un quarto d'ora dopo rispetto a quando è stato nominato salutiamo Paolo Ross salutiamo in salute sei in comico il calciatore uno per in comico Pablito viene il Paolo Rossi sbagliato oh sei stato grande in kamikaze non capisce allora visto che abbiamo una platea di comici e comiche giovani comici e giovani comiche che puntano a fare questo lavoro sì io in questa settimana ho avuto il piacere di intervistare insomma tutti i vostri colleghi che hanno fatto parte del cartellone artistico di questo comedy village la prima domanda che rivolgo a tutte e due è come avete iniziato esattamente cioè il momento in cui avete deciso cazzo voglio fare il comico prima lo chiedo a Stefano a Daniele lui è Daniele io sono Daniele e poi lo chiedo a Stefano perché per la prima volta vorrei sentire raccontare da te una cosa che io ho raccontato sempre dal mio punto di vista cioè Stefano era uno spettatore di Satiriasi e noi ce lo trovavamo lì alle serate di Satiriasi a fine serata si metteva lì vicino a noi e ci faceva ma questa battuta come l'hai pensata e quindi mi piacerebbe sentire per la prima volta questa storia dall'altra parte quindi Daniele tanto la smentisco però me la smentisci questa cosa ci sono i filmati possiamo riguardare nella posa di Stefano ma la posa smentisci o la frase? la frase la frase anche la posa ne parliamo dopo ne parliamo dopo Daniele in Inghilterra mi facevo tantissime canne mi aspettavo cose diverse dall'Erasmus invece pioveva ero sempre fatto studiavo tanto e ho iniziato a vedere video di comici americani per caso tipo ho visto un video di Louis C.K. su YouTube prima su YouTube c'era molta più roba e quindi sono entrato nel loop dei comici americani e ho iniziato a scrivere tipo mi vedevo 5 ore al giorno di video di comici americani e ho detto vabbè prova a scrivere e scrivevo in inglese all'inizio perché stavo in Inghilterra se vivi all'estero un po' pensi in quella lingua e quindi scrivevo in inglese e poi sono tornato in Italia e ho scritto a Ferrario che avevo già incontrato una volta ho detto oh ma c'è un open mic e lui ha detto no vabbè c'è Satiriasi ma è una setta esatto almeno così è stato detto no Edoardo non mi ha detto così perché è un gentiluomo l'ha detto Luca qua l'ha detto Luca qua l'ha detto Luca qua però no io in realtà non sapevo di Satiriasi cioè il mio approccio io vedevo solo i comici americani ho detto ah mo lo porto io in Italia no però nel senso dicevo la comicità in Italia un'altra cosa mi guardavo quegli americani e poi Edoardo Saverio e Decarlo hanno aperto questo per me Calloppio Caffè e mi sono scritto il mio monologhino sono andato là ho incontrato Stefano Luca Michela Antinori Del Grosso Falcone Frasca Lanzillotto vabbè basta non è che li devo dire tutti sono finiti però erano questi e poi una volta ogni due mesi c'era questo open mic dove andavi a portare i tuoi cinque minuti che erano i cinque minuti più importanti della tua vita che dovevano essere ogni volta diversi perché il pubblico erano sempre gli stessi nostri amici che portavamo quindi non è che puoi portare gli stessi cinque minuti perché sono le stesse trenta persone quindi non è che puoi provare cose nuove quindi ogni due mesi con cinque minuti nuovi molto ogni due mesi sì forse anche di più noi abbiamo iniziato febbraio 2014 e nel 2014 saremo saliti tre volte no se abbiamo fatto una prima volta tipo una volta sola forse poi passava tipo non un anno però tipo sei mesi sì nel 2014 tipo tre volte siamo saliti e poi nel 2015 è diventato una volta al mese e poi però nel 2015 è arrivato come di Central Dio benedica il network no che è arrivato dicendo vogliamo fare Natural Born Comedians che come dicevi ieri con Luca non è che fai Natural Born Comedians e la carriera decolla perché i video prima non andavano né su Facebook né su YouTube però ti dava la sicurezza di dire ah vedi c'è nel senso la sensazione anche di iniziare sto facendo qualcosa una cosa che sta crescendo se persino io sto su Comedy Central quindi posso andare in quella direzione quindi diciamo ci ha sicuramente motivati e poi e poi e poi ci arriviamo dopo Stefano Rapone vediamo che c'è da dire sulla posa e sulla frase fammi pensare io mi ricordo parto dalle origini dalle origini mi vedevo Luttazzi dicevo questo è figo poi è arrivato e uscì quel video è arrivato bip mettiamo un bip la bipiamo facciamo il gesto la rifacciamo facciamo un taglio mi vedevo Luttazzi poi è arrivato questo video che diceva il meglio non è di Daniele Luttazzi ti ricordi l'autore di questo video? che l'ho scoperto tardi tra l'altro se io te l'avessi saputo non ci avrei mai lavorato però ormai sto qua sto in ballo che devo fare e c'erano tutti questi comici che facevano queste battute belle e ho detto ah vediamoci questi comici chi sono? e c'era Comedy Subs che grande che saluti a Comedy Subs che ha portato a Stand Up Comedy in Italia che ha portato a Stand Up Comedy in Italia e mi vedevi video lì vedevo tutti i video di comici diciamo così come di Subs ai giovani perché non lo sanno era un sito dove mettevano dei sottotitoli degli spettacoli di comici tipo cominciarono con Bill X Carlin Carlin tutti i mostri sagri insomma e dicevano pure se volete cioè comprate poi il DVD da Amazon qui poi ovviamente andavi su Emule all'epoca e vedevi il titolo così poi andavi su Amazon e comprare e quindi vedevo tutti questi comici e poi a un certo punto cominciarono lì a Comedy Subs o Comedy Subs a intervistare i comici italiani e c'era mi ricordo Saverio Fabri pure avevo visto e pure Giardina e ci fu il primo e poi Giardina era pubblicizzato un suo spettacolo quindi c'era lo spettacolo di Filippo Giardina in questo posto qua sono andato a vederlo e poi lui disse c'è Satiriasi al MEDS era all'epoca i primi due anni quindi sì forse era il secondo anno io il primo non l'avevo visto ho visto arrivato al secondo anno e quindi andai lì a vedere le prime serate di Satiriasi e disse ah bello belle queste serate e quindi me le vedevo però non parlavo all'inizio con nessuno l'unico con cui parlai paradossalmente fu Lancia che poi non ha fatto solo quelle due stagioni ha fatto sì le prime due sì che faceva delle cose un one liner mi ricordo all'epoca quella volta lì lui cambiava ogni volta cambiava e faceva queste cose a me bella questa cosa qua e quindi parlai con lui e mi disse faccio un triomedusa eccetera eccetera poi però non l'ho mai più visto prima di poi rivederlo da grande e e poi quindi il one line nasce da da Francesco Lancia cioè la tua passione no no io già beh mi ero visto Steven Wright mi ero visto Imo Phillips che per me erano per me più fighi anche di Bill X perché tutti parlavano di Bill X e c'era io vabbè per me erano più belli mi piacevano di più volevo alzare un po' di polemica no no però mi piace perché tutti all'epoca siccome c'era Luttazzi appunto si parlava di Bill X che era uno dei tra quelli da cui aveva preso di più forse e Carlin e quindi erano un po' quelli che più importanti diciamo come percezione almeno e poi dice no però pure questi sono fighi e e poi vidi uno spettacolo di di Montanini che anche come lui come Paolo Rossi salutiamo no scherzo ancora ancora tra noi prossimo ospite di Kashmir Podcast questa puntata durerà 15 minuti dovrete tagliare una quantità di roba no 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 e e quindi vidi uno spettacolo suo in un teatro vicino a casa tra l'altro casa vecchia di Tinti sulla stessa via il Duse no era viva il Duse non era il Duse era come si chiama il teatro che stava la via non diciamo vabbè non ci abiti più no non ci abito più però però c'eva ogni tanto così puoi essere trovato vecchia di vecchia di Tinti ciappi da mio fratello i fast del passato e lì lui mi vede di dire io ti seguo a Stateriasi e quindi mi abbracciava eravamo diventati non dico amici però ci riconoscevamo e quindi quando andavo a Stateriasi io parlavo con lui principalmente e dicevo come va non è che dicevo bella sta cosa e poi non mi ricordo mai che tu hai espresso il desiderio di fare il comico no poi cioè per noi eri lo spettatore strano capito sì no perché veniva venivo sempre e lo vedevi particolarmente interessato e poi magari a fine serata ci è capitato di parlare delle idee delle battute sì perché poi mi ricordo che ci fu il come si chiama il l'Oppio Cafè il Cotter Community Club e lì c'era Saverio De Carlo e Edoardo e Lancia che fecero uno spettacolo di sketch fecero e io in quel momento presi Saverio da parte di senti voglio fare sta cosa come si fa e lui mi disse eh boh non c'era ancora niente non c'era nulla di quelle cose lì e e poi che è successo ho fatto non so se era oddio non mi ricordo i tempi se ero già stato in in Giappone perché poi alla fine poi aveva fatto una sorta di workshop Saverio io c'ero andato però era una cosa cioè un po' forse non so la prima volta che faceva delle cose quindi si trovavano dei pezzi era più un delle chiacchiere sulla sulla comicità e poi sono partito sono andato in Giappone e ho cominciato a fare stand up stand up in inglese no in inglese e c'è una mosca che mi segue sì 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 due è una gag è una gag e e poi sono le reincarnazioni di Paolo Rossi e Montanini che sono venuti e e poi quindi da lì avevo fatto la prima volta stand up e poi forse tornando ero un po' diventato conoscevo Saverio ho conosciuto De Carlo forse mi avevano invitato a vedere delle serate loro in cui provavano forse al Duse per per stand up forse e da lì mi ricordo c'eri pure tu e cominciamo un po' a parlare di queste cose però forse era l'ultimo o il penultimo anno sì con quello che ad Atlantide ci abbiamo fatto tre anni sì forse quarto e quinto anno sì e quindi più o meno cioè io vedevo le serate però io non pensavo che potessi fare il il comico perché io in realtà poi alla prima volta volevo fare i fumetti quindi io vedevo le serate però avevo la testa su un'altra cosa però comunque vedevo gli spettacoli vedevo le serate e appunto che stavo all'estero ho detto senti tanto qua non mi conosce nessuno è male che va faccio una figuraccia mi vedono fammi provare la prima volta andò andò bene che poi è un pezzo che ho rifatto anche in Italia le altre volte andò malissimo però ho detto vabbè forse non sono tagliato però mi è rimasta quella prima volta in cui dicevo vabbè guarda forse questa roba qui cioè se ho fatto se sono andato bene quella volta lì magari vuol dire qualcosa non può essere solo fortuna insomma magari c'era qualcosa e quindi mi sono attaccato a quel ricordo poi l'ho riproposto magari un po' più elaborato e alla fine ho detto ah vedi allora se si può fare e sei diventato Stefano Rapone sono diventato io in quella sera poi che ci siamo visti con Daniele di cui parlava poc'anzi il famoso open mic anche di cui parlava oltretutto Luca anche quello brandizzato Comedy Central era Comedy Central cocktail club sì sì cocktail comedy club forse quell'open mic no ma poi più avanti no il primo il primo anno che ci siamo esibiti no era solo cocktail comedy club e dopo poi è arrivato c'è stata la partnership però dopo che noi abbiamo fatto il programma ah sì dopo sì credo dopo dopo Natural Daniele abbiamo parlato tantissimo con gli artisti di approcci alla comicità cioè ognuno di noi ha un approccio a un'esigenza diversa per la quale sale sul palco qual è la tua esigenza fai una comicità partigiana sali sul palco perché vuoi comunicare un tuo messaggio sali sul palco perché ti piace semplicemente sentire il pubblico ridere cioè qual è la scintilla che ti porta poi su un palco allora sicuramente la risata del pubblico è bellissima cioè è fondamentale io allora in realtà a monte c'è un mio bisogno di piacere alle persone quasi patologico cioè io ho bisogno di pensare di stare simpatico a tutti al di là della comicità cioè da quando sono bambino io sto cioè se penso di stare simpatico a qualcuno ci sto male anche qualcuno che è una meteora nella mia vita se penso di essere listato sul cazzo io ci sto male e quindi c'è un bisogno di risultare simpatico e insomma fare il comico è un po' la in realtà è una cazzata perché ti mette nella posizione di non piacere a un sacco di persone però quindi la risata del pubblico mi cioè proprio mi dà mi dà energia e poi in realtà io non sono neanche salito le prime volte pensando di di dire qualcosa di dover spiegare qualcosa o combattere per qualcosa però poi io racconto molto storie cioè nel senso sono abbastanza autobiografico o comunque aneddotico e mi sembra che comunque raccontando storie col proprio punto di vista sottolineando alcuni modi di vedere il mondo che sono diversi da quelli che noi pensiamo di avere poi alla fine è un modo di fare satira sociale cioè se tu sottolinei come tu vedi una cosa che ti circonda in un certo modo e le persone dicono ah vedi questo lo vedo così pure io stai facendo satira sociale cioè nel senso io non parlo di politica poi abbiamo anche detto che insomma per fare satira politica non necessariamente si debba parlare dei politici o di politica quindi a sta microfono è punto di vista a sta microfono è punto di vista diverso che secondo me la cosa importante è punto di vista diverso cioè nuovo e non necessariamente vero o giusto questo secondo me è un po' anche perché è vero o giusto cioè il tuo esatto però cioè dal mio punto di vista se cioè il comico deve dire guarda noi io vedo questa cosa così come la vediamo noi se invece la guardiamo cosa fa ridere ora cosa non è detto che sia il modo giusto o il modo che io penso sia giusto è solo un modo diverso di vedere le cose e mostrare quello quello scarto quella quella differenza quella discrepanza secondo me quello è il ruolo se vogliamo alto del comico cioè le cose sono così ma guarda se ci mettiamo di qua le cose sono in quest'altro le vediamo un'altra angolatura quanto invece nel tuo di di lavoro cioè facendo prettamente online c'è la possibilità di mettere un punto di vista e quanti punti di vista ci sono che magari noi pubblico non percepiamo e invece sono stati in motore per alcune battute mi rifaccio un po' alla mia esperienza online quando io ho cominciato a scrivere online perché avevo conosciuto Stephen Wright mi sono innamorato di quel mondo ma contemporaneamente in quel periodo stavo attraversando un periodo di vita complicato quindi tutto quello che scrivevo sotto forma di monologo andavano in dramma quindi il one line per me è stato un rifugio e so che tantissime battute sono specchio del tempo che stavo vivendo delle emotività che stavo vivendo in quel momento ovviamente al pubblico non arriva ma io lo so nelle tue battute parti da un punto di vista parti da una cosa che vuoi dire o è semplicemente tutto frutto della creatività senza obiettivo specifico se non ovviamente quello della risata no secondo me ci sta un'esigenza di base di boh di fare qualcosa di che ne so cioè non so bene dirlo intanto secondo me pure questo fatto del one line a me piace fare le battute perché mi piace proprio il cioè il condensare un concetto in una in una roba che sia esplosiva appena la dici cioè quasi è quasi come fosse un cioè a me ogni tanto mi sembra quasi come se fossero tipo delle formule magiche so come dire che tu dici quella cosa e la magia è che poi la gente ride cioè c'è questa cosa che che comunque più o meno ogni volta funziona quindi non c'è cioè basta che le dici a un certo punto manco pure se non ti va a me spesso non mi va di fare delle cose stanco così dico una cosa e però vedo che va e quindi mi piace come come roba condensata che poi dà un da questo effetto a questo livello proprio di di piacere mio personale e l'esigenza varia cioè a volte è solamente una cosa che mi fa ridere altre volte è pure un'esigenza di comunicare delle cose che penso io cerco sempre poi di di collegare cioè di fare un discorso cioè su su quello cioè se vedi che pezzi che ho fatto ieri cioè comunque c'è un filo conduttore e c'è un un messaggio che voglio dare poi semplicemente metto delle delle battute scandite ogni ogni tot secondi più o meno almeno come il ritmo suona così però nella mia mente sono tutti dei cioè un discorso che faccio cioè poi è come se ci avessi come se fosse faccio questi esempi del cavolo come se fosse una collana diciamo c'è tutte queste queste perle che sono le mie battute bellissime che poi collego più o meno e quindi esce fuori un discorso sensato e però cioè non è neanche secondo me cioè mi sento un po' sento un po' limitante anche sentire solo un liner perché in realtà poi faccio cioè cerco pure di sperimentare parecchio anche sulle cose che faccio anche perché poi se faccio solo quello mi annoio e quindi cerco pure di fare altre cose che siano che ne so che siano diverse o comunque che in genere non si hai l'interazione con le immagini però sicuramente sei diventato sì sì no quello sì cioè l'icona di un certo tipo di comicità e prova ne è il fatto che molti visto che facciamo formazione al comedy village quindi arrivano tanti giovani comici maschi principalmente molti si approcciano ai pezzi come Stefano Rapò cioè sei diventato un genere della stand up comedy in Italia Stefano era il mio obiettivo era il tuo obiettivo l'hai soddisfatto però ti chiedo che suggerimento puoi dare a dei giovani comici che si approcciano delle giovani comiche che si approcciano a questo lavoro e puntano a diventare Stefano Rapò ma io questa cosa me l'hai detta anche anche prima me l'hanno detta anche alcuni però non ho io esattamente ho detto quanti danni ha fatto Stefano Rapò in questi anni sono contento tantissimo hai devastato generazioni di comici era anche quello che volevo la sofferenza tu sei un infiltrato si si del cabaret adesso vi do la maschera sono Gabriele Cirilli maestro di travestimenti con la parrucca sotto io non ho capito bene com'era questa situazione cioè se sono semplicemente persone che hanno delle battute e e basta e quello va bene cioè se vogliono fare delle battute one liner va bene cioè non è che è una cosa che ho inventato io io pure l'ho vista fare da altre persone però tu hai creato il tuo modo cioè non sei assimilabile ad altri non sei assimilabile a Stephen Wright non sei assimilabile sì sì e infatti non so cioè non so se è una questione di battute o se è un se è un atteggiamento cioè se magari entrambe le cose entrambe le cose però dipende anche da come sono queste persone che non so chi siano se come sono nella vita cioè se sono anche loro magari un po' depresse un po' timide e non stento a crederlo vedendo le facce insomma potrebbe essere che gli viene normale fare questo se sono invece allegre spensieri e poi esattamente ci sono gli uni ci sono gli altri ok in quel caso c'è semplicemente serve trovare appunto la propria voce il proprio modo di fare quella cosa se si vuole fare quella cosa lì di farlo però adattandolo a quella che è la propria personalità poi ci sta anche secondo me che inizialmente qualcuno si ispiri e che emuli cioè io ho sentito un sacco a me pure mi dicevano all'inizio come Stephen Wright eccetera mi ricordo anche a De Carlo gli dicevano quando faceva l'inglese ah però sembra Eddie Hizzard cioè ci sta che qualcuno si ispiri a un comico che gli piace poi facendolo comunque tante volte capisci cioè capisci anche tu quello che ti piace veramente cioè tu se provi a fare una cosa che fa un altro dopo un po' ti sta stretta perché non è la tua voce comica come dicevi cioè dopo un po' tu trovi una cosa che fa ridere te e riesci a farlo in maniera più tua è una cosa che però si capisce con con il con l'esperienza secondo me cioè scrivendo e provando vedendo anche le reazioni del pubblico perché chiaro non sei credibile sul palco non c'hai feedback e quindi dici ma che sto a fare quindi secondo me con l'esperienza si capisce poi appunto ancora non ho visto bene questi esempi guarda se vuoi possiamo ripetere tutti gli open mic che abbiamo fatto fino ad oggi devi capire quali sono sono solo 70 Daniele invece una domanda sul mondo della satira della stand up l'anno scorso mentre stavamo qui Pio e Amedeo hanno ricevuto il premio alla satira un saluto a Pio e Amedeo due amici del podcast quest'anno mentre siamo qui hanno annunciato un programma di stand up comedy su Italia 1 e i quattro protagonisti saranno Andrea Pucci Maurizio Battista Giuseppe Giacobazzi e Max Angioni lo so perché fanno promozione del programma Tintoria a novembre vengono tutti e quattro insieme tutti ospiti 3 su 4 tolto Max Angioni sono tre personaggi insomma che sono stati volti degli anni del cabaret sia Giuseppe che sia Giacobazzi Maurizio Battista che Andrea Pucci e oggi escono con un programma che si chiama Italia 1 on stage stand up comedy non è appropriazione culturale secondo te questa ma ti dico poi il quarto programma che si chiama stand up comedy che c'è in televisione ovviamente perché se è un programma stand up comedy si deve chiamare solo stand up comedy non c'è un altro nome non c'è non c'è un altro nome è appropriazione culturale ma guarda una volta avrei pensato però meglio così perché poi la gente si incuriosisce della stand up comedy invece adesso non me ne frega niente cioè nel senso fanno il loro programma dove sono loro cioè sappiamo tutti e quattro la comicità che fanno saranno loro quattro se c'è scritto stand up comedy o meno come sempre a pubblico da casa non gliene fregerà un cazzo quindi possiamo dire che la rivoluzione di Satiria si è fallito da questo punto di vista da questo punto di vista sì però per fortuna cioè nel senso la tv generalista è rimasta con i suoi punti di riferimento però cioè nel senso stiamo al terzo anno di un comedy village dove si fa stand up comedy e quando facevate Satiria si voi eravate voi e Ferrari cioè nel senso eravate nove a fare sta roba adesso guarda quanta gente quindi mi chiedo anche quanto siano felici loro di chiamarsi stand up comedy cioè tipo Battista faccio la stand up comedy magari secondo me no faranno uno spettacolo diverso ma a loro secondo me non gliene frega un cazzo Stefano cioè siamo più noi in questa pippa stand up comedy cabaret credo che a loro non cambino sicuro a Angione non gliene frega niente essendo di un'altra generazione rispetto a loro lui figurati i primi tre insomma hanno una storia completamente diversa rispetto a quella di Max volevo concludere con voi facendo un piccolo giochino e poi lasciare spazio alle classiche domande degli astanti abbiamo avuto 12 artisti ospiti compresi voi due in questo comedy village e conoscendo le vostre passioni io vorrei farvi un piccolo giochino e se ognuno di questi fosse un personaggio di Dragon Ball chi sarebbe? e vai vai allora se Edoardo Ferrario fosse un personaggio di Dragon Ball chi sarebbe? partiamo da noi io so Goku partiamo partiamo da questo io so Goku ti dico Luca Ravenna è Vegeta questa è una vecchia cosa perché se Vegeta fosse italiano sarebbe di Milano questa cosa secondo me ok e e Tinti è è piccolo perché è calvo ci sto quello verde mi piace perché noi non lo sanno Edoardo Ferrario Edoardo Ferrario è un buono è un buono sicuramente è un buono è un buono guarda non è non è Yamcha perché no no è più forte è più forte non è facile non è facile chi c'è di buono non può essere Gohan è buoni forti cerchiamo di allargare anche un po' andiamo anche su altri cartoni animali no 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 non ci arriviamo Trunks Trunks del futuro si Trunks del futuro buono vero Trunks del futuro c'è ragione Trunks del futuro ci sta ringraziamo Pippo Ricciardi Pippo Ricciardi Bravo Pippo Ricciardi Trunks del futuro Pippo Ricciardi che è Yagi Robey vabbè questo secondo me dai che comunque senza Yagi Robey reggeta col cazzo che lo sconfiggevano quindi esatto nel senso Pippo Ricciardi prossimo ospite di Tintoria lui viene prossimo ospite di Tintoria devi tagliare la coda a Luca Ravenna quindi se ho capito bene il giochetto Daniele Fabri ah caldo viene Fabri le conseguenze non arrivano dopo la pubblicazione della puntata è molto difficile perché anche lui è abbastanza buono si questa abbastanza però beh potrebbe essere Tintinano perché lui è che prima era cattivo perché stava con Satiriasi e e poi è diventato buono è passato a Natural Born si 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 quindi Tintinano dai beh mi piace comunque ce li stanno suggerendo è giusto è giusto bravissimi Vincenzo Comunale ah Comunale vabbè lui è se lo fai da chi altro c'è no no lascia stare lascia stare guarda là c'è il poster però abbiamo saputo che tu laggiù non vedi nulla non c'è neanche Comunale ah no ah no è proprio vero col telefono in mano è Comunale è quello vero Comunale allora Comunale Comunale chi può essere perché lui è un buono pure secondo me finge benissimo Dende Dende è carino Dende quando diventa Dio però si 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 dai Dende è bello Dende è bello ci sta l'altra faccia di Vincenzo Comunale Sandro Canori Sandro Canori Mister Popo Mister Popo no 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 che comunque no no però forse un po' un po' più Reccaio Reccaio dai Reccaio che fa le battute comunque pure Reccaio si 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 Reccaio ci sta si bello Reccaio Velia Lalli Velia Lalli Cici si secondo me perché comunque è forte è la prima donna combattente forse di Dragon Ball arriva al torneo quindi è forte e poi se sposa Goku se sposa Goku e Namo Velia e poi no diventa messaggio da Stefano madre e poi però insegna ai figli pure le arti quando non c'è Goku le arti massate quindi insegnando anche quello che fa anche qua quindi manca solo il matrimonio con te per rendere tutto credibile al Comedy Village dell'anno prossimo celebriamo le nozze Velia Rapone Chiara Becchimanzi Chiara Becchimanzi Lance chi è che l'ha detto? Bruno c'è ragione Lance ci sta che anche lei è dolce è buona e cara se la fa incazzare se la fa incazzare spara spara esatto ce l'avremo stasera Savero Raimondo Freezer Freezer sì 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 sicuro ci sta è lui Mauro Fradini maestro Mutan Fradini chiaro andiamo anche oltre il cartellone artistico Giorgio Montanini Giorgio Montanini Majin Bu nelle varie facili Majin Bu in tutte le forme Filippo Giardina Sel Sel è vero è vero Sel in che forma arriva dal pubblico la domanda? in tutte le forme cambia tutte le forme ha bisogno di assorbire altri altri comici e poi diventa perfetto diciamo Michela Girò? Michela Girò è dai no no non è 18 sì forse più 18 perché perché è fortissima è una cyborg è vero però può anche avere un lato anche un lato dolce sì e poi si mette con un terrestre con un terrestre proprio come Michela proprio come Michela si è messa con un terrestre qualunque un romano un romano Pietro Sparacino Pietro Sparacino anche lui è complicato questo suggerimenti perché no no Mr. Satan no 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 non è Mr. Satan no 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 troppo chi? Gonkio sconfiggi ah è vero è il drago effettivamente è vero può essere il drago che tu sei il dio drago io non conosco un cazzo quindi mi sto secondando così rido quando ridono gli altri quindi effettivamente è quello che sì che riunisce tutti e esaudisce i desideri dei giovani comici ci sta chiudiamo con questo giochino con l'assente Paolo Rossi il nonno di Goku è vero molto bene io prima di lasciare spazio al pubblico volevo farvi dire una cosa stiamo lavorando già alla prossima edizione e stiamo lavorando anche al logo ce n'è uno è l'edizione in memoriam ce n'è uno in ballo insomma ci teniamo a farvelo vedere vediamo se anche voi gradite questo logo del prossimo come di village la droga forse un forse troppo spelo di da scalico allora lasciamo spazio maglietta disegnata da Mauro Lazzarin facciamo un applauso a Mauro ecco grazie per il regalo sono diventato tipo il chirurgo che opera nonno sai quello al quale mandi i cesti a Natale grazie mi portano i regalini perché mi corrompono vogliono fare le aperture però va bene la marijuana è sostanza amica di questo podcast sempre abbiamo sempre detto spazio alle vostre domande quindi se avete domande da fare vi alzate venite qua al solito prendete il microfono e rivolgete le domande ai valenti comici che abbiamo sul palco tutte e tre insieme l'avete alzata Mattia Mattia ha preparato una domanda a Perù cioè si è scritta le battute a casa allora io ho una domanda per Stefano e gli volevo chiedere se nella sua vita ha mai urlato se ha mai urlato e sì in uno sketch che ho fatto con Lundini facevo il il medico e c'era lui che aveva un neo e c'era sto neo che gli faccio fare quello è un neo quello è un principio di blackface e dice da così diventerà così e diceva che posso fare gli faccio fuori e poi e dove essere così lo sketch in teoria e poi lui mi dice no fai fai che ti arrabbi e cazzi ho provato a urlare fuori a urlare ho urlato due volte però poi ho finito la voce quindi però è la prima è la prima volta che ho urlato nella tua vita in vita mia ah ok quindi grazie a posto bellissima domanda profonda no no c'era 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 quanto abbiamo svilito il significato dell'applauso in questo applaudiamo per qualunque cazzata ma sai secondo me facciamo un applauso facciamo un applauso e poi io secondo me per far passare il tempo cioè non vuoi più sentire quello che c'è bravo bravo prossimo facciamo un applauso dai un applauso Silvio di che anno sei Silvio secondo te ecco fatto ma che è le domande le faccio 93 93 quindi c'era già Silvio vero cioè hanno scelto questo nome mia sorella ha scelto il nome un anno prima che succedesse quello che vuoi ok quindi era già ce l'ha visto lungo diciamo sì mia sorella aveva un talento comico più prorompente del mio sei contento di questo ma non mi interessa più di tanto no non lo usi per è diventata un'intervista a me no è che non c'è io ho iniziato ma è più una cosa tua comunque collegare Silvio a Berlusconi cioè è una cosa è una cosa mia è finita se tu pensi Silvio non pensi a assolutamente no ma proprio penso a Silvio davvero ma perché tu non conosci altri Silvio Silvio è no sì però non hai conosciuto altri Silvio nella tua vita no se ti dico Benito che pensi eh vabbè penso Iacovitti eh pensi quello e poi no però Benito Silvio non è Benito è uguale cioè come associazione non come politica eh questo è vabbè però sono fuori moda non me le fanno più da boh sette anni otto anni ormai capito tu sei rimasto ancorato al passato ma non la battuta è che se tu nasci in quegli anni e chiami tuo figlio Silvio vuol dire qualcosa secondo me no no perché Silvio comunque era un nome comune quindi c'hai nonno Silvio e ti chiami Silvio ti piace il nome Silvio lo chiami Silvio non è che se ti piace Silvio non chiami tuo figlio Silvio per Berlusconi invece Benito è caratterizzante veramente state perdendo 10 minuti su questa cazzata è il segreto di questo podcast ok vabbè no va bene vado con la domanda vai vai prego prego saverio allora io vi volevo chiedere la domanda è a tutti e tre in realtà visto che alcuni di noi hanno sperimentato questi giorni la simpatica esperienza di non andare molto bene no sul palco non è successo a me pensa che infame visto che alcuni di loro hanno fatto cacare chiedo per loro loro non c'erano quindi non lo sanno ah scusa non è entrata manco questa è battuta volevo chiedere a voi tre come gestite innanzitutto da cosa capite al di là delle risate cioè qual è la cosa dentro di voi che si muove nel momento in cui una serata va proprio da merda e come reagite immagino che abbiate tutti e tre una maniera diversa questa grazie Saverio beh lo capisci se non rido non lo capisci quasi subito cioè questo funziona qui di solito se non è questo so io no lo capisci da quello dal fatto che sono risate meno prorompenti e quindi dici ah è così è una di quelle cioè se la domanda è da cosa lo capite è dal fatto che la gente non ride o comunque ride di meno ride di meno e qual è poi la domanda come cosa ti si smuove dentro la morte cosa ti si smuove la morte ti dispiace poi provi a risollevare la situazione e se ci riesci tutto rientrato anzi sono stato anche bravo perché dici stavo a far cagare invece ho fatto sta cosa sono un genio e quindi quella cosa diventa un valore aggiunto se invece non ce la fai e vai finisci la serata che dici vabbè dai comunque sono andato troppo male bevi un po' poi dormi poi il giorno dopo ti svegli e ripensi no oddio che brutto la mattina che è successa quella cosa la notte prima io le prime volte che andavo male pensavo di smettere di fare sto lavoro ma a me è capitato di andare male anche in serate di un'ora cioè ti parlo agli inizi sostenere un'ora con il pubblico con il pubblico ghiacciato che ti guarda non facevo stand up facevo minchiate gente che ti guarda così e che vedi che comincia ad andarsene è terribile però poi se mentalmente superi quello shock tutte le altre serate che vanno male non andranno mai così male come quella quindi acquisito lo shock più grande non puoi fare altro che andare meglio di quella situazione lì poi entra in gioco il mestiere cioè adesso c'è la gente che viene a vedere a vedervi e quindi c'è anche un approccio diverso da parte del pubblico non c'è più la sfida da parte del pubblico perché molte volte quando sei sconosciuto c'è anche inconsapevolmente la sfida del pubblico fammi ridere quando invece sale o rapone o un altro comico famoso vuoi dire qualcosa? no sì che è vero che sullo spettacolo di un'ora adesso è più difficile andare male cioè che magari parti piano e dici vabbè adesso piano piano me li prendo c'hai i tuoi tempi sulle serate corte può succedere devi sempre pensare ok la prossima battuta cioè devi dire comunque la prossima battuta convinto che farà ridere e poi a un certo punto hai finito il tempo e te ne puoi andare e stare malissimo fino alla serata dopo cioè tutto il tempo pensare non lo so più fare non lo so più fare si sono accorti del trucco eh questo ce l'abbiamo un po' tutti la sindrome da truffatore quando vai male cioè quando vai bene dici no giustamente adoratemi e poi e poi quando vai male invece dici ecco fatto ecco fatto Walter a parte la captazio benevolentia perché Tintoria è il miglior podcast del centro Italia e vabbè che comunque va bene sì sì va benissimo che comunque centro Italia best Italia questo lo sappiamo tutti appunto no la mia domanda è principalmente a Daniele e cioè ma in realtà può essere può estendersi un po' tutti cosa succede come ci si comporta quando uno pensa che è molto bravo a fare una cosa che gli piace e poi si accorge che c'è un'altra cosa in cui è evidentemente tanto bravo e gli piace comunque stai parlando di giocare a calcetto e fare l'amore infatti non capisco l'altra cosa quale puoi c'è il podcast dici le mie due qualità quindi da stand up comedian a podcaster beh allora intanto grazie perché comunque so applauso due complimenti ci si sente però ti dico non è che è che non pensi mai ah mo so bravo a fare stand up mo so bravo a fare podcast pensi sempre madonna quanto devo ancora imparare a fare stand up madonna quanto ancora c'è da fare nel podcast quindi non è che pensi mai so fare questo faccio questo so fare quest'altro faccio quest'altro pensi sempre devo continuare a fare questo o devo continuare a fare quell'altro non ti senti mai sono bravo pensi sempre sono un work in progress quindi non c'è mai un momento che dici a posto so bravo a fare stand up mo faccio quello quindi continui a fare tutto quello che ti piace fare cercando di migliorare in tutte e due le cose poi sono mondi assolutamente conciliabili sì infatti quindi in questo caso sono mondi che tu concili benissimo anche perché tintoria poi è un podcast che parla principalmente di comicità sì parla un sacco di comicità adesso anzi con Stefano cerchiamo di spostarci dalla comicità perché come sapete benissimo al comedy village la comicità ci ha rotto il cazzo e quindi cerchiamo di allargarci verso altri mondi io non pensavo neanche che fossimo bravi a fare il podcast non abbiamo neanche un premio satira forte dei mari esatto che veramente ce l'ha chiunque anche Francesco De Carlo che credo non abbia scritto una battuta di satira mai Francesco De Carlo ce l'ha ammissione mo ce l'ha pure un altro podcast che l'ha vinto quest'anno minore sì veramente veramente cagli e porci guarda in realtà ce l'abbiamo mezzo cioè un po' tipo per un per un ventottesimo forse ce l'abbiamo anche noi perché lo vinse battute ah è vero e quindi ce l'abbiamo in qualche modo sì 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 però non ho mai visto la satira che ho fatto io a battute metti il casco allaccia la cintura perché nei palazzi i palazzi del potere ancora tremano tremano vieni vieni Giulia Fede mettiti anche tu ce l'ha anche Andreotti il premio ma non Federico non Federico ma Giulio Andreotti vinse un premio satira forte dei marmi questo per dire sì quanto è ambito sì sì quanto attaccano al potere Giulia Giulia scusaci ho una domanda per Stefano le tue tre canzoni preferite dei Simpsons quelle tre che ti piacciono di meno e perché molto molto bella questa domanda bella vabbè la più vabbè ho fatto la classifica vediamo se mi ricordo la più bella secondo me è quella di di Troy McClure che canta il pianeta delle scimmie ah sì la più bella secondo me e spettacolare qual'altra avevo messo non sai mi ricordo come era I'm just a bill quella è no però non era tra le prime tre forse quella l'altra era quella che cantava il signor Barnes ah sì My Vest molto bella quella era l'altra aspetta non vorrei sbagliarmi per questa classifica ufficiale l'ho fatto ho fatto tutta una serie di storie guardatele solo nel mio Instagram infatti la canzone della pianeta delle scimmie cantata da Troy McClure ha vinto il premio Satira a Forte dei Marmi esatto quella è veramente se non sbaglio veramente bella ne trovo più e questo è il momento in cui scrollo qui è quando le visualizzazioni PEM vediamo se sì vabbè taglia di pietra taglia di pietra è bella però forse non era tra eh no quella lì ti posso dire a me non mi è mai troppo piaciuta quella lì forse perché quando la fecero la prima volta era doppiata in italiano e io dico ma che è perché doppia pure le canzoni le canzoni non si doppiano mai e quindi non la riconosco e ma sono quasi arrivato i momenti in cui scrolli di solito quando siamo in un posto chiuso sono una sofferenza gestibile ma quando c'è una piscina là dietro che tutti possono vedere è una tortura vergognosa mi verrà in mente però un'altra che mi viene spesso in mente è quella che canta l'Arlene Lampkin che è la cantante country di cui si innamora che si innamora di Omer e canta la canzone quella che è Banquet Me Tonight quando stanno cioè che tipo ci prova con lui con Omer lui non capisce ma che canzone calda tipo dice qualunque uomo si scioglierebbe ascoltare vabbè me ne vado e tipo se ne va io penso sempre a Omer che canta oh mindi mi spruzzi mi impuzzi d'amor se la mia dolce o chessa però in italiano in italiano però o chessa è livello altissimo di traduzione no quella una che non mi piace è quella però sono quelle nuove che cantava un tipo che era tipo canzone per bambini tipo che era una che entrava in testa che tutti la odiavano e come può essere quella lì che piaceva a Bruno Interland cioè questa cosa che è lui e che quindi infatti è un pazzo lui e quindi piaceva questa cosa e a me non mi piace la risposta a questa domanda vi sarà utile nel vostro percorso da comici certo però sta sulle mie storie su Instagram quindi vedetele se si cap non si caricano però sono belle il wifi spacca in questo villaggio altre domande Pierfrancesco intanto complimenti a Pietro Sparacino che si ricorda i nomi delle persone nonostante stanno scritti sul non è che lo legge vabbè vederci però non è che c'ha la vista supersonica però nonostante siamo in un bunker di marijuana comunque ti ricordi marijuana legale lo diciamo agli amici e le amiche della guardia di finanza che salutiamo ospiti e amici di questo podcast io avevo una domanda classica del podcast qual è il vostro dittatore italiano preferito beh tra tutti voi che abbiamo avuto e sottolineo italiano perché se fosse stato estero la risposta era ovvia bellissima quindi al contrario sì dittatore italiano preferito ho studiato Ciccio qua gente preparata amica è che quanti dittatori italiani abbiamo avuto allora pensiamoci un attimo ma nel novecento o anche nell'impero anche impero romano prima dell'impero oro concetto largo cioè dittatore regnante re rottore dei coglioni vari italiano beh tosta tosta la lista che mi viene in mente è lunga lunghissima difficile scegliere diciamo che cosa che cosa deve fare un dittatore per piacerti deve morire scappando perché quello è proprio cioè nel senso che ne so tipo franco che a un certo punto molla è riandato benissimo e poi mi droppi capito cioè nel senso te devono ammazzare se no non sei un dittatore deve morire scappando deve deve fare le cose per bene quindi deve dare origine al suo movimento a Milano perché solo là le cose si fanno per bene deve fare qualche bonifica diciamo qualcosa quella come minimo sì deve rivoluzionare il vocabolario del del paese che deve che deve fare deve dare un grande contributo all'arte scultoria diciamo in particolar modo quella che riguarda i busti sì diciamo pensa quanto lavoro ha dato alle persone che fanno i busti prima che c'hai i busti a casa no ce l'abbiamo tutti almeno uno almeno uno ma per di cioè che non te l'ha lasciato tuo nonno c'è anche un bellissimo pezzo di Mauro Fratini che dice l'architettura dell'Eur perché il duce si era fissato con la scritta con le scritte romane e quindi per scrivere le scritte romane hanno dovuto allargare i palazzi dell'euro quindi l'euro è una conseguenza quindi tu mi dici il duce tu hai pensato al duce quindi ok questo è interessante grazie dello spunto perché io ancora c'avevo un insieme abbastanza ampio tu me l'hai ristretto al duce effettivamente ora che Pietro insiste io non so se comunque è un po' controversa come posizione propongo questa cosa per ora che è il centenario della marcia sul Roma mettere in commercio un indovina chi speciale dittatori italiani però tutte foto dice ma ai capelli no cazzo ai capelli si è il duce giovane young Mussolini tipo smallville del duce somebody save me apre d'appio altre domande eccolo Federico vabbè comunque la risposta l'ha data Pietro e se ne prende tutte le responsabilità che libri consigliereste ad una persona in generale sulla stand up o sulla stand up M di Scurati tra un po' esce il terzo della trilogia capo lavoro però lo devi leggere tutto che se lo leggi metà esci di casa e fai lo sapevo appena arrivato appena arrivato il 3 ma che cazzo me l'ha mandato Bonpiani che ringrazio a Bonpiani ma io non faccio altro parlare di M diciamo così mandatemelo pure a me evidente te l'hanno mandato ma è uscito o te l'hanno mandato in anteprima no penso che esce adesso cioè è uscito adesso porco 2 non vedo l'ora Stefano Rapone no lo so che Stefano perché perché gli hanno mandato il terzo perché nel terzo la M richiama la svase e quindi hanno detto quello è quello di Rapone si lo posso mettere scusa l'ho dato del nazista perché storio si caga che ti hanno mandato M lo posso mettere accanto al Mein Kampf per motivi solo cromatici 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 certo cromatici libri di comicità invece ah questa è una bella è una bella cosa ma di comicità in generale dov'è la persona in generale dice allora sì ah io ora qualunque cosa lui non ha letto mai un cazzo quindi qualunque libro gli dice un libro lui lo compra ok quello che ti sta leggendo adesso io mi sto leggendo adesso un libro che è molto cioè faride perché è di Todd Barry Todd Barry se lo conoscete no è un comico che stava anche nella serie lui di Louis C.K e ha anche uno spettacolo sul sito di Louis C.K credo ancora se non l'hanno tolto se l'hanno messo forse da qualche altra parte e anche su Netflix ma su quello italiano non c'è forse sì 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 io l'ho visto su quello italiano si chiama qualcosa Honey no no però sì quello lì è lo spettacolo no lo spettacolo suo sì no cioè questo spettacolo si chiama The Crowdwork Tour che praticamente lui è una specie di mezzo documentario mezzo special suo in cui lui va in diversi teatri senza materiale improvvisa col pubblico che è microfonato e è fighissimo cioè lui è un genio dell'improvvisazione riesce a trovare delle cose bellissime cioè uno degli spettacoli più belli che ho mai visto nella mia vita e sto leggendo di un suo libro che si chiama Thank you for coming to Hattisburg che praticamente è a lui che lui è un comico minore cioè lui è un po' è come se fosse cioè fa questo lavoro da 30 anni e passa però è un po' come se fosse diciamo nella serie B quindi si fa tutte le città più piccole è un diario di lui che si fa i posti più piccoli e quindi dice ah sono andato in questo posto c'ero stato già due anni fa ho fatto 70 persone ora sono tornato ce ne erano 58 e quindi uno pensano che facendo questa cosa diventi un po' più famoso invece c'era meno gente però sono andato in un coffee shop e ho chiamato un Uber per andarci mi sono venuti a prendere e c'erano una coppia c'era con lui e c'era la moglie davanti al sedile del passeggero e ha detto ah no anche lei è un Uber driver e quindi questa cosa mi ha rallegrato la giornata e questi sono i capitoli cioè lui che va in questi posti e racconta minori e racconta però è bello perché essendo un comico diciamo di serie B tra virgolette le sue storie non sono epiche e quindi racconta delle piccole cose tipo fotografa un palazzo in costruzione per dire dice ah qua ci faranno un fast food e quindi c'è sta lui che fa e c'è sta la foto sul libro di questa cosa che però non è niente quindi è tutto così il libro che secondo me è bellissimo perché sono le cose che abbiamo vissuto noi che viviamo cioè sono lui non ha un tour manager lui ha 50 anni anche noi abbiamo dei comedy club voglio dire fa come Fausto Rio però è bello perché appunto lui fa tutta la solo e fa le cose c'è il parla del gestore che gli è ubriaco che gli dà i soldi a fine serata quindi lui rosica perché dice vabbè ma non cioè non l'ha controllato di bene non va bene però io lavoro in un bar quindi ci sta che mi è ubriaco però non è che se vado a un negozio che vende alcol quello lì è ubriaco vuole i soldi giusto e fa queste considerazioni del cavolo però sono belle ripeti il nome Todd Barry scritto Todd Barry però è bello perché c'è tra questa cosa di cose apparentemente insignificanti in realtà racconta quello che noi abbiamo vissuto il vero lavoro del comico poi e e questo è una cosa bella è in inglese ovviamente quindi tutti sono tutti in inglese e poi un altro libro secondo me fighissimo è quello di di Stuart Lee che si chiama How I Escaped My Certain Certain Fate and I Became a Stand Up Comedian dove c'è lui che praticamente Stuart Lee se non lo conoscete cercatelo perché secondo me è il comico più bravo del mondo e racconta tutta la scena inglese in pratica era partendo però dalla sua storia perché lui faceva stand up negli anni 90 poi a un certo punto c'è avuto un momento in cui non voleva più fare il comico quindi si era un po' ritirato e poi dopo parla di come è riuscito a rimettersi al lavoro e poi tra i vari capitoli ci stanno dei transcript dei suoi spettacoli parola per parola con le note quindi tu vedi il suo spettacolo e là ci stanno tutte le note e dice come gli è venuta in mente quella battuta perché fa quel riff perché usa quella parola però lui lo fa non per scopi didattici lo fa perché è fissato cioè lui fa una comicità che è tutta molto meta è una comicità spesso sulla comicità quindi semplicemente vedi anche il modo in cui lavora e quindi è figo perché è uno studio quasi chirurgico su come viene fatto uno spettacolo e in più capisci tutta la storia della comicità più o meno inglese che anche lì comincia più o meno come qua cioè c'erano i siti dei comedy club all'inizio però la gente doveva sforzarsi per creare porta pubblico eccetera e una cosa simile però beh completamente diversa però c'è questo aspetto è il libro di come si chiama Steve Martin no Steve Martin sì quello per i bianchi sì 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 che pure quello è fighissimo si chiama Born Standing Up è lui che racconta della sua vita e della sua carriera e pure quello è fighissimo perché pure lì ti fa vedere negli anni 70 che in America non c'era la stand up comedy come oggi quindi è sempre lui che comincia a fare stand up però anzi non neanche stand up lui faceva tipo il mago faceva dei numeri pazzi e tipo non sapeva che non puoi copiare le cose cioè è una cosa che lui scopre facendolo che dice questo non puoi fare questa cosa perché già la fa un altro però non era scontato cioè tu immagini una pensa in America gli anni 50 c'era l'anni Bruce ma molta gente non non sape cioè non era così diffusa la stand up come come uno pensa e poi ti fa vedere lui da che comincia dal fare tipo delle le prime esperienze in un in un locale vuoto e dice tu fai comincia a fare il tuo numero ma non c'è nessuno tra il pubblico no fallo che qua c'è una vetrata così vedono che se fa delle cose la gente entra cioè che è una cosa folle nessuno oggi farebbe questa cosa qui invece là facevano così e parte da quello e arriva poi alla fine quando fa spettacoli davanti a 20.000 spettatori e è figo perché poi racconta tutta la solitudine che c'è a lui nel fare quel lavoro dopo perché lui prima faceva delle cose in cui perneva tutto il pubblico lo faceva uscire e lo portava in giro a fine spettacolo a fare dei giri così a comprare delle cose a mangiare e poi arriva a quel punto in cui dice io mi sentivo solissimo perché arrivavo in hotel mi portavano all'avenue facevo lo spettacolo però non avevo interazione con nessuno perché seppure c'era uno che mi rispondeva da una parte con 20.000 persone quello di là non sa che sta succedendo da quel lato quindi tu fai il tuo spettacolo vai dritto e poi a fine serata ti prendono ti riportano in macchina e ti riportano in hotel e quindi ti senti solissimo e poi lui comincia a dire parla di depressione cosa che c'ha avuto e secondo me è molto bello Satiristas anche è un libro interessante ci sono una serie di interviste a diversi stand up comedian è come parlare sporco influenzare la gente che è il libro di di Lenny Bruce oltre al film Lenny se non l'avete visto vedetelo assolutamente che insomma sono le origini di questo lavoro qui quello che hanno detto loro fatelo mi sembrano ottimi consigli non ne darò altri suggerimenti sui libri non ne ho altre domande Alessandro anche io una domanda mi portereste dell'acqua per favore grazie ciao domanda per tutti e tre la buona comicità deve lanciare un messaggio etico o non serve ma fai come ti pare cioè è vero questo vale per tutto ok si se ti va mandalo se no no ok grazie però dite anche voi se no beh è quello di cui abbiamo parlato tutta la settimana ci sono approcci diversi c'è chi sale per far ridere per lanciare un messaggio per fare satira per virtuosismo per far vedere quanto è bravo quindi ogni scelta non c'è un giusto e un sbagliato abbiamo detto in questa settimana c'è la tua personalissima scelta l'importante è che sia coerente con la voce del tuo personaggio comico perché altrimenti sembri Stefano Rapone e non va bene ma se no fate entrambe le cose cioè parla cioè prima comunque cioè non è che parti arrivi a ora vi spiego come funziona il mondo e quindi dai tutti i messaggi parti con delle cazzate magari cioè così almeno magari abbasso un po' la guardia capisco che c'è chi sei perché poi spesso una cosa che ho visto grazie una cosa che ho visto è che spesso uno arriva e dice ah c'è questo tema e parti subito ma di cioè ma chi sei cioè perché dovrei ascoltare te che manco so chi sei dammi un attimo un contesto dimmi da dove vieni fammi un attimo un'introduzione cioè come col cibo cioè al ristorante mangi un po' l'antipasto magari subito al dolce o al piatto forte cioè torta un po' la cosa poi arrivi e poi una volta che mi hai mi hai rapito puoi parlare del tema che ti sta a cuore però secondo me è pure una cosa che ci si deve arrivare gradualmente se no diventa pure pesante se tu parti con oppure anche che so con trauma tu parti hai avuto sto trauma un attimo è sempre anche lì è sempre molto personale sì sì no questo lo dico dipende anche da come sei come personaggio comico come la scrittura lo dico da spettatore questo se io vedo uno che cioè generalmente uno però se pensi a Louis C.K. o a George Carlin prima di lui che avevano aperto gli spettacoli dicendo dobbiamo parlare di aborto però è Louis C.K. esatto cioè non è che sei uno sconosciuto parti così no sì sicuramente a vedere uno spettacolo parliamo di aborto e tu parliamo d'altro domande chiudiamo avete delle aspirazioni dove volete arrivare nel senso c'era qualche idea tipo mi piacerebbe che ne so andare su Netflix Netflix Prime eccetera e tutto basta magari sì sì cioè l'aspirazione per me è continuare a fare questo lavoro arrivare a un pubblico sempre più grande cercare di far divertire sempre più persone sia con la stand up sia sia col podcast se poi diciamo Netflix Prime la Rai come di Central sono tutti strumenti cioè nel senso non sono il fine sono il mezzo il mezzo per portare pubblico alle parafrasando esatto quindi c'è diciamo io già faccio quello che che mi piacerebbe fare poi insomma ci sono vari livelli di grandezza e speriamo speriamo crescano l'aspirazione ste? ma sì di base la cosa secondo me migliore che ci può capitare è fare le cose che ci ci va di fare ci piace fare e poterci vivere di questa già questo secondo me non è detto che cioè non è scontato che ripanga questa cosa qua è una cosa che mette parecchia ansia quindi già che se riusciamo a fare questo comunque è una roba e infatti sì sto a mettere a parte i soldi perché non so che non so che cosa succederà domani che succederà la mia aspirazione invece il mio obiettivo è la quarta edizione del Comedy Village grazie è stato un enorme piacere io vado voi vi chiudete la puntata di Tintoria Pietro Sparacino direttore artistico del Comedy Village stand up comedian e bel ragazzo bel ragazzo bene che puntata bella dai è andata questa puntata speciale sei contento pensavo meglio sì sì a me sembra eri andato forte no no sì sì vabbè su Dragon Ball l'arribello lanciato il pubblico ci ha dato una bella mano Pietro ha preso quella posizione vabbè sì infatti quella posizione in post però chissà magari andrà di moda eh sì è vero vediamo dopo le lezioni magari Sparacino diventa comico di regime se lui va bene così poi ognuno parlavamo prima no è un percorso personale se lui dice che per lui va bene così diventare comico diciamo di regime non cioè ben per lui o buon per lui come si dice in italiano sì e va bene va bene così che vogliamo fare comunque c'è il il pool party ora c'è il pool party poi c'è il Saverio Raimondo che salutiamo sai Saverio che fa perché è un professionista arriva alle 8 fa lo spettacolo e riparte davvero sì perché domani c'è la radio pensa che cazzo di pro mazza veramente solo da imparare va bene detto questo grazie mille a tutte grazie mille a tutti ciao è stato molto bello fare questa puntata speciale grazie a The Comedy Club grazie a Come Disentral grazie a Pietro Sparacino grazie a voi che ci avete ascoltato grazie a Stefano Rapone Beniele Tinti ci vediamo alla prossima puntata e Bartolo non dimentichiamo Bartolo grande un applauso a Bartolo un applauso a Bartolo un applauso peggior puntata peggior puntata non scusca grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti